Oggi siamo con i NAS, andiamo a vedere il comandante che ci dà come ordini, vediamo un po' che locale dobbiamo andare a controllare. Vieni, sei da Mirko, vieni pure. Salve, mi dica, cosa dobbiamo fare oggi come operatori NAS? Eh, ho ricevuto delle segnalazioni riguardo al locale Vanilla. Ok. Dicono che c'è cibo scadente, vengono offerti degli alcolici, in teoria dicono scaduti, però dobbiamo verificare su queste informazioni. Inoltre dovrebbero essere anche chiusi loro adesso perché in questo periodo non possono stare aperti, non è prima necessità. Eh sì, e quindi stanno infrangendo anche questo regolamento, è il più importante. Ok. Maresciallo, io che faccio? Le persone che trovo all'interno vado di multa pesante per fargli capire la lezione e poi mi occupo del locale. Sì, poi mi ispeziono per vedere se è vero su cibo variato e il resto, se noi fate un controllo generale, vedete se oltre al cibo variato c'è qualcosa, quello che trovate. Va bene, va bene. Viste cose come quelle, anche a troppo può essere che fanno un po' con i clienti. Maresciallo, e allora io vado e le faccio poi sapere a fine turno. Sì. Grazie. Se ci sono problemi posso chiedere l'intervento di un elicottero per fattogliare sopra di voi. Va bene, allora io in caso scrivo per se ho bisogno di supporto. Grazie maresciallo, buona giornata, buon lavoro. Anche a lei. Oddio, già ci sono delle persone qui al... Delle macchine, sicuramente ci sono delle persone dentro, guarda. Non vogliono stare a casa neanche a pagare. Salve, fermi tutti, siamo dei NAS, voi non potete stare qui. Il locale dovrebbe essere chiuso, gente che beve, vedo luci, ma stiamo scherzando, stiamo? Eccomi qua, salve. Io sono proprietario di locale, dimmi tutto. Allora, salve, io purtroppo devo fermarla e un attimo mi occupo dei clienti che non potrebbero stare qui, il locale dovrebbe essere chiuso e parlo subito con lei, mi dia un secondo. Certo. Allora, lei con la felpa bianca vi può seguire gentilmente? Sì, sì. Allora, mi dovrebbe dare il suo documento e devo procedere purtroppo a farle una multa. Lei qui non può stare perché siamo in un periodo di quarantena, quindi mi dia il documento che faccio una ricerca sul mio database. Io lo do subito. Allora, signor Bernese, mi faccia fare un attimo una ricerca sul tablet? Sì, sì. Allora, signor Bernese, lei è già presente nei nostri database, non ha commesso nessun reauto, vedo che ha l'autocertificazione, quindi sapeva di questa quarantena, ma lei è uscito lo stesso. Io purtroppo le faccio una multa e sono da pagare 1000 euro di multa perché lei è uscito e non poteva uscire. Va bene. Prego, questa è la multa, si allontani dal locale e torni a casa, non puoi uscire di casa, gentilmente stia a casa e si mantenga a distanza da tutte le persone. Arrivederci, signor Bernese. La pagherò subito. Va bene, arrivederci. Allora, lei col cappellino gentilmente spenga la sigaretta e mi segua. Si mantenga sempre a un metro di distanza, sono questi gli ordini della quarantena. Va bene, va bene qui, va bene. Mi può dare gentilmente un suo documento perché voglio vedere un po', devo identificarla per farle la multa. Sì, sì, Mario. Preso? Sì, allora mi dì un secondo che prendo il tablet e guardo. Allora, signor D'Acosta, vedo che lei ha fatto diverse cose, multa, abbandono di veicolo, rapina a mare armata, tentata aggressione. Piccoli sbagli della giovinezza. Eh, ho capito, ma piccoli sbagli, ma lei ha veramente fatto di tutto e di più. Allora, non ha neanche l'autocertificazione, quindi io le farei una multa di 1.000 euro, come ho fatto già l'altro cliente. 1.000 euro? Sì, prego. Come? Eh sì, perché lei non può stare qui. Lei non può stare, c'è una quarantena da rispettare e non lo sta rispettando. Lei non può venire in un locale, bere e divertirsi. Scusi, in questa crisi, come faccio a mantenere la famiglia ora? Eh, dovrà poi vedere lei. Dovrà lavorare. Posso venire a lavorare, mi hanno levato il lavoro, per la sicurezza, mascherine. Eh, lo so, ma purtroppo non posso farci niente, guardi. Quindi questa è la multa, la fattura, prenda, ok. Si allontani dalla struttura qui, torni a casa, stia in quarantena, stia a casa e non esca una prossima volta. Va bene, scusi. Arrivederci, signor D'accordo, Sara, mi scusi, la tessera, mi stavo dimenticando la carta identità, prego. Grazie mille. Allora, lei è l'ultimo cliente, signore, qui dentro la saletta può alzarsi e smettere di bere gentilmente, venga qui mantenendo sempre un metro di distanza. Mi raccomando, esca, mi dovrebbe dare il suo documento, così posso fare un controllo per vedere lei chi è. Ok, signor Cairoli, mi faccio un attimo controllare sul mio tablet, lei si ha qualche, sul mio database della città, insomma. Cairoli. Allora, signor Cairoli, lei ha fatto tutte le autocertificazioni, però lo stesso è venuto qui in un locale, lei lo sa che non può venire in questo locale. No, quello sicuramente, signor agente, anzi, sono venuto qua, allora, ho fatto l'autocertificazione, ho accompagnato una signora anziana che non le è stata fatta il tampone in ospedale. Va bene. Allora, visto che c'era gente affollata davanti al locale, ora tolto la mascherina, se devo fare la multa, lo so di essere in torno. No, no, la multa gliela faccio perché lei non può stare qui e il locale dovrebbe essere chiuso, anzi. Le ritorno, prego, prenda la sua carta, questa è la sua carta identità. Ok, presa, a volo. Ok, niente, le devo fare una multa, le chiedo gentilmente di tornare a casa immediatamente, di non uscire rispettando le regole di questa quarantena. Allora, queste sono 1000 euro di multa, prego, prenda pure il foglio. Ok, ho preso il volo? Perfetto, allora, si allontani e non si faccia più trovare in giro perché comunque io l'ho segnalata e probabilmente arriveranno a fine quarantena, potrebbero esserci altre sanzioni per lei. Quindi le auguro una buona serata e faccia piano in strada. Se ha bevuto, chiami un taxi e non vada in giro ubriaco. Tanto buona non è la serata, però dopo 1000 euro di multa, so. Eh, purtroppo sono le regole. Arrivederci, signor Cairoli. Salve. Allora, chi è il proprietario del locale? Eh, salve, sono io. Allora, lei stia qui un attimo, qui la signora può seguire gentilmente. Va bene. Allora, si mantenga a un metro di distanza, mi raccomando, perché con le nuove disposizioni dobbiamo stare tutti quanti lontano. Mi dia la sua carta identità, così faccio un controllo per vedere se nel database è già schedata. Va bene. Mantenga. Allora, signora Martina Truzzi, mi faccio un attimo cercare. Allora, signora Martina Truzzi, lei non ha nessun reato, però lei non può stare in questo locale, anche se lei lavora qui, non può lavorare in questo locale. In questo momento il locale dovrebbe essere chiuso, quindi anche per lei le ritorno il documento di identità. Le faccio una multa da 1000 euro perché lei non potrebbe stare qui, la invito pertanto a pagarla il prima possibile e non uscire di casa in questo periodo di quarantena, rispetti il nuovo regolamento sulle disposizioni che ha dato il governo. Va bene. Quindi grazie, si può uscire dal locale che adesso tanto provvederò a chiudere in questo momento. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Allora, lei è il proprietario, dicevamo? Mi può fornire la sua carta di identità? Si mantenga sempre a un metro di distanza, mi raccomando. Va bene, ok, fornisco mia carta, subito. Ecco mia carta di identità. Allora, signor Drago, mi faccio un attimo controllare sul nostro database, lei è già schedato. Allora, signor Drago, questa è la sua carta di identità, prego. Può prenderla. Grazie. Ok, ho controllato, non risulta niente. a suo carico. Sono dei NAS, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni che il locale ha avuto dei problemi, quindi vorremmo fare un controllo sulle forniture che voi fornite qui al locale, se avete tutte le carte in regola, l'HCCP, la SCIA per poter tenere aperto questo locale. va bene, se ha il foglio per HCCP, al momento non abbiamo. Non ce l'avete, la SCIA l'avete fatto richiesta? SCIA? Non so cos'è, lei deve farsi seguire da qualcuno perché non può tenere aperto il locale in questo modo, in Italia ci sono delle leggi e bisogna applicarle correttamente, metterò questa condizione dentro la punta che le andrò a fare, vorrei fare un controllo anche dei frigoriferi e della zona dove voi utilizzate, dove lavorate la materia prima, quindi possiamo andare al di là del balcone. Venga, venga, certo, mi seguo, qui abbiamo il nostro fornitore, di qua c'è frigo, eccolo qua. Ok, mi faccio controllare, avete pulito, prendete tutti i giorni la temperatura, la segnate da qualche parte? Sì, 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 no. Allora, non la segnate, purtroppo lei deve segnare la temperatura ogni giorno, il regolamento HCCP va applicato in ogni... Ma non ha mica rotto il termometro. Eh, ho capito, ma va segnato perché io devo sapere se nei giorni precedenti ha avuto qualche malfunzionamento, allora mi faccia vedere dentro il frigorifero, allora dentro il frigorifero vedo che, ma mi scusi, ma voi qua vendete vino e vendete anche marijuana, ma mi scusi, ma come è possibile? No, ma marijuana è per tisana. È per tisana, ma che tisana, qui, allora senta, si giri un attimo, si giri, si può girare gentilmente, lo sapevo io, perché io non posso lasciare. Allora, io intanto le metto le manette, mi dico un secondo, allora, stia fermo, le devo mettere le manette, lei non può avere la marijuana qui, mi faccia peraltro ritirare la roba, tutta questa marijuana qui, 102, neanche un grammo, sono 102 grammi, mi scusi. È per clienti. È per clienti, ma ho capito, ma il negozio deve essere chiuso, cioè, siamo anche in un periodo di quarantena, lei non può tenere aperte. Ma io come faccio a mantenere mia famiglia? Eh, ho capito, deve trovarsi un lavoro diverso, ci sono diversi aiuti che lo Stato ha messo a disposizione dei cittadini, mi segua, io purtroppo devo portarle in centrale, devo fare una, devo fare tutto, devo fare tutto il litter per un arresto, perché lei non può avere questa, questa droga qui al locale, mi segua. Vabbè, lo sapevo che io ieri sera non dovevo fare festa. Venga, venga, le tengo io aperto, venga che andiamo sul range rover lì dei carabinieri, così la porto in centrale. Non scappi, eh, mi raccomando. No, no. Venga, venga, venga. Allora, aspetti che le apro la macchina, le apro la portiera. Prego, entra, entri pure. Ok, perfetto, le chiudo un attimo lo sportello, mi faccia scendere, ok, e andiamo verso la centrale, mi dispiace per lei, oggi è una brutta giornata. Uno deve stare comunque seduto avanti, uno dietro, siamo in regola e niente, purtroppo è andata così oggi. Eh, non dovevo fare bisbocce ieri sera, almeno non mi dimenticavo erba. Eh, doveva stare più attento. Grazie a tutti.